come voglia di scappare ma non sai cosa fare non è poco solo di un'aria e allora va a manzare per il collo non c'è nessun controllo dei scatti riparto ci sono cose che dovrebbero ma non ci ho detto mai come diventa facci me sono i cruchini basta eh eh è un'azzista che c'è adesso chiamo due ci diamo in statistica forse ho trovato la stessa che ha lasciato le giordine spero anche lei sia difficile lavorata in matematica e stasera la chiamo perchè perchè praticamente forse lezioni domani non fai O non fai ode con me non fai ode con me non fai ode con me varen due nuova نا Grazie